Ippotortu, cosa significa essere qui oggi al Quirinale? Oggi è un riconoscimento veramente forse di... non forse, sicuramente il più importante, una grandissima soddisfazione per me, ma soprattutto per tutta la squadra, per tutto il movimento. Quest'estate abbiamo fatto qualcosa di molto importante e oggi essere ricevuti qui dal Presidente è sicuramente la più grossa delle soddisfazioni. È arrivata la Coppa Europa, è arrivata anche una medaglia ai mondiali, adesso? Adesso, l'anno prossimo ci saranno i campionati europei proprio qui a Roma, quindi cercheremo di ottenere il massimo, ci saranno tante gare in cui potremo andare a medaglia e l'obiettivo sarà naturalmente quello e poi le Olimpiadi di Parigi. Come stai in questo momento? Molto bene, grazie, mi sto allenando tanto, sono al secondo mese di preparazione, diciamo, non facendo le indoor, sto lavorando solo con l'obiettivo di arrivare pronto ai mondiali di staffetti, agli europei e alle Olimpiadi, però devo dire che sto molto bene, grazie. Ok, bocca al lupo allora. Grazie.